Grazie Riccardo. Prima di presentare l'ultimo ospite di questa parte, vi dico una comunicazione di servizio. Abbiamo trovato un telefono, quindi se manca qualcuno è qua sopra. Verificherei. Adesso diamo la parola a Marga Ferré di Transform Europe, coordinatrice europea di Transform Europe. Grazie mille. Grazie mille. Ha volato di notte praticamente per stare qui. Ha anche fatto un intervento in italiano e di questo lo ringraziamo particolarmente. Grazie. Grazie a te Roberto. Che grande è Roberto Morea. No, in serio. Io sono Marga Ferré, sono la co-presidenta di Transform Europe, sono spagnola. Eh, voglio intentar parlare in italiano. Eh, no, grazie Roberto, no? Io conosco Roberto quindici anni fa, sì. Transform Europe non seria la misma cosa senza Roberto Morea. Grazie, grazie mille Roberto, grazie. Grazie. Bueno, Transform Europe, no? È una rete di 38 fondazioni politiche e è un gruppo di riflessione, no? De 23 paesi europei. No? È una fondazione ufficiale del partito della sinistra europea, no? Però eh abbiamo fondazioni di partite che non sono eh parte del partito della sinistra europea o fondazioni sindicali o centri di studio eh differente e diverso in distinti paesi europei. Eh, questa cosa è importante, no? Per Transfor Europe eh, eh, crear rete, diálogo eh, parlar con eh, fora di los muri della sinistra oficial eh, è central, molto importante. No solo lo movimenti, un altro partito, intelectuale, academia, eh, qualche cosa che si muove in Europa con libertà pa pensar eh, in contro del pensiero unico, no? Eh, questo è il nostro obiettivo, eh, e creo che sinceramente, modestamente, poco a poco eh, lo stiamo facendo, no? Perché eh fare una rete di pensiero, no? Promuere un dialogo, esplorare il debate, no? De nostro tempo, no? Eh, è una questioni che oggi enfrenta una paradoja di epoca, no? Es decir, vivimos o habitamos un tempo distoppici, no? El capitalismo actualmente no offere niente, però distopia. No è il futuro, no? Eh, una pandemia, il cambiamento climatico, una guerra che mi nasce a essere nucleare eh. Esta cosa è importante, la terza guerra mondiale, no? Una cosa, una locura, no? Algo delirante, no? Es oggi una possibilità. Una possibilità normalizzata. È la narrativa del capitalismo contemporanea. È terribile, no? La una cosa, la cosa positiva, non siamo soli. È un processo nel tutto il planeta. Eh la questione che tutti gli analisti, anche gli analisti capitalisti liilisti, anche gli analisti, hanno planteando oggi è la questione di una polarizzazione eh entre dos visioni assolutamente distinti di una possibilità del futuro per la humanità. Una è rappresentata la Europa per la extrema dresta. E la otra, la posibilità, la apertura di una alternativa, del desafio, del reto, del enfrentamento a la idea del fin della storia. E in questa narrativa nuova non siamo soli. Milloni di persone di tutto il planeta stanno, come noi oggi, debattendo sobre la guerra, sobre il cambiamento climatico, sobre la posibilità di un altro futuro per il nostro planeta. E questa è la buona notizia, lo possibile. In la distopia senza futuro che offre il capitalismo, questo eterno presente, tutto è come ora o peggio. La esenza alternativa crece la idea del nacionalismo racista, il desprezzo al diritto internazionale, il desprezzo alla vita umana, il desprezzo al planeta. Tutti questi desafiotti, questi reti, facendo ritornare il pensiero a questione basiche, simple. Osea, è questo il unico mondo possibile o è possibile la costruzione di una alternativa? La idea della utopia che, nel mondo académico, nel mondo intellettuale, vuole e retorna con molta forza, con molta forza nel mondo intellettuale. Ed è una utopia distinta per il secolo XXI. E è una forza importante per la sinistra, non solo in Europa, paspera del tutto planetano. Il problema è che oggi enfrentiamo una guerra, no? Oggi ci sono più armi, più traffico di armi, e più potere distruttivo. Se mai nera la storia dell'umanità, faccia sessione la guerra fredda, no? E' incredibile. La nostra obligazione è demandare un disarmame, non il contrario, no? Il mio debate nel mio paese, in España, defendendo il pacifismo, mi dice il pacifismo è ingegno, o no, o no, io sempre rispondo il pacifismo e non siamo, siamo scientificamente pragmati, non è una ingenuità, è perché ci stiamo perché della cosa, avversiamo, conosciamo, facciamo research, entendiamo come funziona il tráfico di armi, la quantità di armi del mondo, qui è dietro, il lobby della industria militar, come funziona il capitalismo, per questo siamo facifisti, questo è il motivo, non è moral, sì è moral, però ha una base solida, scientifica, razzonata, e credo che questa è nostra forza, entender che non solo è una posizione morale, come il Papa, molto bene, è che c'è una intenzione del capitalismo per utilizzare la guerra come una scusa per imponere di maniera violenta e autoritaria una forma di explotazione, e in fronte a questo si sta crescendo in tutto il mondo la idea della necessità di una alternativa, del respeto o volvere al diritto internazionale, la idea della democrazia in rischio, la idea della democrazia in il potere, credo credo honestamente che stiamo affrontando grandi problemi del nostro tempo e da Transfor Europe resumiamo e molto brevemente tre questioni che 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 la prima questione è la crisi profonda del sistema andare e per un altro sistema l'analisi di la crisi del sistema capitalista e la posibilità di alternativi abbiamo parlato oggi sobre questa questione la altra questione è entender o analizzare la tendenza contradictoria del nostro tempo in Europa oggi che è la existenza della extrema destra e paralelamente asistiamo a movimenti sociali ideologici profondi e dinamici che stanno generando vittorio culturali il movimento del hedone il movimento antirracista il movimento per il clima stanno imponendo una nuova dinamica di activismo emancipatorio in certa a medida per comprender questa paradosa è una delle tereasi che vogliamo fare interna intendiamo che hai che coglier tutte le forme di partecipazione politica particolarmente delle giovani delle donne non solo del movimento lavorista perché lunghi invitarci ad abbandonare la question della classe questa preoccupazione invita la influencia della discriminazione di gênero e razza precisamente al mercato del lavoro come centralità e la ultima pregunta che facciamo qual è la base della sinistra come è la classe operaria oggi chi la compone la interseccionalizzazione della luce la distintas componenti della luce e la ultima parte è la rinascita di una teorica critica hai una rinascita di una teorica critica a nivel europeo tanto della generazione di alternativa la utopia la funzione del stato protettor non solo redistribuctor distribuctor di riquezza generatore riquezza la question di la propietà oggi oggi vuole ancora con forza più che in le ultime due décadas oggi ha questionato la propietà della industria energetica che provoca la inflazione la propietà di le armate la propietà di come di una forma democrática podemos abrir un futuro di participazione e ese è un poco il análisis interseccional del ecofeminismo della teorica marxista e di dinamica che impregnano il diálogo necessario che vogliamo fare e voglio terminar solo agradecendo io non se in italiano come si dice agradecendo transfor italia perché non è una organizzazione normale è costitutiva di transfor l'uro è assolutamente necessario parla il treno arrivere Grazie.